Il capitano è la compagnia, il riferito sta per morire. E manda a dire ai suoi almini perché lo vengono a ritrovare. E manda a dire ai suoi almini perché lo vengono a ritrovare. I suoi almini manda a dire che non hanno scarpe per camminare. E manda a dire ai suoi almini perché lo vengono a ritrovare. Il mio comando e il mio corpo in cinque pezzi si attagliò. Il primo pezzo è la mia, la mia, la mia. Il secondo pezzo è la mia, la mia. Il terzo pezzo è la mia, la mia, la mia. Il terzo pezzo è la mia, la mia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.